Buonasera ragazzi, voglio mandare un messaggio per le persone di merda che hanno commentato i due post su facebook, su instagram, delle persone, due persone, cioè un uomo e una donna che sono suicidati insieme ai loro figli, un padre di famiglia si è ammazzato con il figlio e una mamma di famiglia si è ammazzata con il figlio. Ovviamente le reazioni sui social sono state molto differenti, quando una mamma si è ammazzata con il figlio, c'è stata comprensione, poverina, la mamma si è ammazzata, è giusto che il figlio è morto insieme alla madre, quello che l'altro, in simbiosi, si è salvato da un padre di merda, colpa del matricato, del matricato, del narcisismo, questo e quell'altro, comprendiamo la poverina si è ammazzata, il padre si è ammazzato con il figlio o la figlia, è pezzo di merda, fallito, si è depresso di merda, vuoi ammazzarti tu e il bambino lasciarlo in vita, chi cazzo sei tu per decidere la vita di un bambino, vedete c'è una differenza abbissata, con la madre c'è tanta comprensione, tanta cosa, si è ammazzata con il figlio e è buttata sotto al rimini, si è buttata al settimo piano, c'è comprensione, poverina si è ammazzata, è depresso, combattiamo, capiamo, c'è un motivo, il padre invece ammazzato con il figlio, era ammazzato, sono due tragedie, il comune dominatore è la depressione, non si può giudicare, quindi cercare di non giudicare, dovete avessi saltiti, sono tragedie che non si sa i nascosti di queste persone, quindi uno dovrebbe stare zitto e un uomo di rip e amen, non dovrebbe dire, invece la gente si age a psicologi del cazzo, ma questa disparità di genere, differenza di genere, mi dà fastidio, che le donne possono fare tutto e già fanno tutti se trovi nemmeno privilegiati del cazzo, mentre l'uomo del cazzo viene sempre archiviato come persona cattiva o questo fa, non va bene, se lo avete rotto i coglioni.